L'occasione è ghiotta, ma non sarà affatto una sfida semplice. Il Catania di Pancaro sfida il Cesena nell'incontro valido per il terzo turno eliminatorio di Team Cup. I Rosso Azzurri, dopo la vittoria a tavolino contro la Spal, cercano un risultato prestigioso contro una candidata seria al ritorno in Serie A. Nonostante i prezzi bassi, lo stadio Angelo Massimino sarà quasi vuoto, pochi gli spettatori presenti questa sera. Pippo Pancaro dovrebbe mandare in campo Maniero e Rosina, entrambi in uscita, possibile che i due possano giocare addirittura nella stessa squadra. Il Bari sta chiudendo per il centravanti e potrebbe nelle ultime ore di mercato chiudere anche per il trequartista. In porta a Terracciano questa sera difesa con Parise e Ramos sugli esterni, Bacchetti e Ceccarelli centrali. A centrocampo Russo e Lulli con Rossetti a fare la mezzala. Maniero centravanti con Rosina e Calderini a supporto. Nel Cesena occhio a Succi e Ciano. L'arbitro dell'incontro sarà Mariani della sezione di Aprilia.